Quello è suo figlio, ne ha bisogno. Aspetta, io non ho nessun figlio. Meglio essere orfano che avere una mamma come la tua. Questo è poco ma sicuro. Paolo, senti. È inutile perdere altro tempo. Perché è inutile? Avevo bisogno di riflettere. Perché è meglio che ti sposi con Filippo. Con me il discorso è chiuso. Non vuoi capire che ho appena perso un figlio. Chi era col bambino? È un bambino d'ao. Tu non sei più innamorata di me. Ma ti piace continuare a giocare con i sentimenti e non vuoi metterti in testa che non sei più una bambina. Io ti amo. Non so come fare. Un uomo. Un medico. Un eroe di tutti i giorni. Amico mio. Martedì 20 e 40. Rai 2. Un uomo.